Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La staccatura fredda ha ormai raggiunto la Grecia e la sua influenza sarà ancora ben visibile al sud Italia, poiché il maestrale scatenerà tutta la sua forza, in particolar modo sui settori adriatici. Le temperature così risulteranno in sensibile calo, portandosi finalmente in linea o al di sotto con le medie del periodo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per domenica 16 luglio. Mattinata soleggiata e fresca su quasi tutti i settori. Nel pomeriggio permarranno i cieli soleggiati sulla Basilicata e su gran parte della Puglia. Nuvolosità frastagliata solo sui settori adriatici, ma senza rischio di precipitazioni. Durante la sera cieli sereni o poco nuvolosi sulla Puglia. Decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi. Difatti le temperature saranno in ulteriore calo, sia nei valori massimi che nei valori minimi, con punte di 27 e 29 gradi. Sensazione di fresco acuito dai forti venti di tramontana e maestrale, che sferzeranno in particolar modo le coste adriatiche, con raffiche fino a 40-50 km orari. Altrove invece risulteranno più moderati. E per quanto riguarda i mari, molto mosso l'adriatico, più calmi invece lo Ionio e il terreno. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Marzo per questa spettacolare foto che immortala una gigantesca luna piena, color rosso fuoco, nascosta dalla Torre dell'Alto e da Santa Caterina di Nardò. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.